Aeroporto di Catania, presidio via Martinez Come pare Daniele Bonnagio? Ci ha dato di cosa? Buonasera, buona volta Vecci parte Vecci parte Maurizio Vecci parte Vecci parte Vecci parte Aspetta che c'è il pancello C'è il pancello No, no, no No, no No, no No, no, no Ciao ragazzi Well, no Belluccio Bellissimo 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 Ahahahah Possiamo andare bellissimo Prendiamo la piccola Sembra tanta bellissimo Due anni Vabbè